Nel pomeriggio di ieri i carabinieri hanno effettuato un ampio servizio di prevenzione e repressione dei reati su tutto il territorio della città di Trani durante il quale sono stati ispezionati e perquisiti numerosi esercizi pubblici, commerciali, attività di ristorazione nonché luoghi dove era nota la presenza di pregiudicati del luogo. Nel corso delle operazioni un 33enne già conosciuto dalle forze dell'ordine è stato arrestato perché trovato in possesso di ben 50 grammi di erba evidentemente non per uso personale. A nulla infatti sono valse le giustificazioni dell'arrestato. Lo stesso è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato. Gli intensi controlli hanno permesso altresì di denunciare tre persone, un marocchino titolare di una macelleria in via Bovio dove gli operatori del NAS durante accurate verifiche hanno trovato 42 kg di datteri dolci invasi dalle formiche, motivo per il quale è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria ed il sequestro dell'attività commerciale, oltre ad una multa di 3.000 euro. Diverso discorso per due cittadini algerini che sottoposti a controllo dei carabinieri sono stati trovati in possesso di ben 42 paia di scarpe griffate contraffatte e custodite nel bagagliaio di un'auto. Per i due malviventi, oltre al sequestro delle calzature, è arrivata la denuncia per i reati di falso e ricettazione.